buongiorno buongiorno coccodrilli si 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 è venerdì si 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 è venerdì quest'oggi un giorno un venerdì speciale perché è il compleanno della ziggianna quindi io me la porto dentro e me la porto anche addosso oggi eccola qua quanto è bella quanto comandava la ziggianna ho visto già che siete belli carichi ho avuto da fare delle cosine ma questa giornata è speciale si 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 è venerdì si 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 è venerdì fa ma è l'ora che ti è in bagno fa fa è l'ora fa oggi di chi era il compleanno eh povera cocca vuolo l'anno fa e vabbè adesso fa una cosa in anteprima si vabbè ne dai proprio a immaginarla senta ancora il suo profumo per diciamo un profumo diverso da tutte le altre persone oggi ne faceva 99 99 anni faceva tanti di voi lo sanno 100 100 invece non ce la fa è piaciuto eh si è commossa la nonna ci commoviamo un po perché per noi era veramente importante eh è bello il video alle 18 sarà su youtube ragazzi eh guardatelo e ditene preghierina per lei ragazzi è bello emozionarsi questa è la vita e quindi bene così la ziggianna ci protegge da lassù ah davvero e ora ci divertiamo un po buongiorno buongiorno un cazzo ma perché eh perché è perché da ora che giorno oggi che è si 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 no 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 si 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 è venerdì si 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 è venerdì si 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 è felice anche il nonno stamattina quindi faremo un bel video per si 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 è venerdì vero eh certo adesso facciamo dei capricoli famo un bel video perché qua c'è una cosa no 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 lo metto non la metto ma manca si mette l'uomo non la metto non la metto dai 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 che non ne metto dai manca lo stronzo ma io non mi metto dai ah tangentopoli attenzione indagato indagato per tangentopoli ma io le vuoi poter eh 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 ora quanto è contento ad doppia la tangente eh tangentopoli eh ma sti tangenti mo ti indagano eh per tangentopoli eh guarda 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 cioè incredibile ah vadolo calatais ha eh andate a vedere il video fate swipe up vero eh si 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 ti fa i pass che kt ora fa tirati lì Dov'è questa tuta? Mi rivolvi ce la taglia Aia Fammi vedere Guarda che cazzotto che c'è Guarda che mano grossa che c'è C'è anche la forza Sai che forza c'è? La forza del coglione Arrivati altri pacchi Vero? Eccoli Che ci sarà, Rena? La pizza La pizza Ecco il fermo deposito numero uno al mondo Ecco i famosi Sono pezzi Togli toscaccia e terza Ecco i famosi Tutte le telline Rotte Tutte le cose sotto i denti E allora le mangia Magna la pasta e poi le busta via I famosi 50 grammi De pasta Perché? E le voglio Tutte le telline rotte Tutte i denti Le mangia giù Davide Ma quanti ne ha mangiati? Ma com'è? Una forchettata? Era netto e mezzo Ma guardate Sono tutte lì È vero? No Cioè le telline Tutte rotte Sotto i denti Che fanno mangiare la breccia Non è vero? Erano buoni almeno? Ma buoni è buoni il sapore Ma Le telline Non avevo mangiate Diete È vero Nonna Marie? L'hai fatta incazzare Ma che incazzare? Lì hanno Servito e riverito Il signorino Guarda 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 Questa mi mancava Questa mi mancava Guarda Ma non avevo mangiato qualcosa Porca Ma Guarda 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 quant'è Ma Quanto è? Quanto è? Non lo posso fare Ma La pasta più quella Vai via Così è facile Che ha fatto bene Che ha fatto bene Guarda 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 che stocca Guarda Ma 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 Dieta Quando c'è Stai Ma io La dieta Allora Quando c'è Stai Tu Poccodrilli Ultimi giorni E ultime cartoline Autografate Disponibili Nostro Merchandising Qua Sta pieno Mascherina Tazza Fate Su I Pai Non la Cancello Mesta Bene Fate Swipe Up Swipe Hype Fate Swipe Up Per acquistare Nel nostro Store Swipe Swipe E Riceverete Anche queste Cartoline Swipe Ma Se Fa Ostruzione Così State Proprio Un po Il position Per Favre I Cazzi Degli Altri Eh Vabbè Favre I Cazzi Degli Altri Basta Che In Voi Tu Mi No Sicuro Bellezza Ta Cioè Sì che da foto Devo fare una foto Assolutamente Eh Mamma mia Guardate Ma tu come mai Con sto scialle Perché C'era Facevano la vela C'era il cappello Ma questo è il mio Cavolo Adesso Te ne porto Un cappello Ma Quanto Sì che è il mio Ce ne è 7 8 Fine De 1 Ma tu Sottopalla Come sei messo Oh Da me Se volessi Amici Come Sottopalla Perché Perché Come senti Sottopalli Contro Statuta Che c'ha Eh Come Quella De chi De Achille Lauro Ma Che ne sei Tu Ma Non è Vero E Allora Non c'era Vero È Vero No Oh Ma Che ne so È appurato Togli il cappello Diventi un modello Bocca a culo De gallina Vabbè Mi so Un modello De dolce Louis Vuitton Guarda che lavoro Lo so Sono alle prime armi So scarso Però Accetto consigli Quindi Guardate i video Datemi consigli Perché So che non so Capaci Ma Piano piano Si impara Sono un po' Di legno Vabbè Come L'olivo Codrilli Non potevo Scegliere Posto Migliore Questo Qui Fate Swipe up Andate a vedere Il video Che ho messo Su youtube Per me È molto significativo Qui venivo Sempre con la Ziggianna Oggi Era il suo Compleanno È il suo Compleanno Perché ancora Ce la sentiamo Dentro Per tutti Quelli nuovi Magari Anche un modo Per Conoscere E Capire Quanto era speciale Per me Questa persona Fate Swipe Oh no Oh Nonno Oh no Beh Ne è di più De una De De sti rosari Quel Quei bombardamento De ieri Dormi Dormimo Come mai Stai a dormire Ma dormi o no Andiamo sul letto Dai No Andiamo sul letto Allora Questa è una promessa Vero nonna Domani vi daremo La ricetta Della torta al testo Fatta da nonna maria Facciamo i video Domani pomeriggio Intanto stiamo Vedendo un po E poi Domenica Sarà la ricetta Pubblicata Posso fare così Guarda se è vero Guarda se è vero Guarda se è vero Tu Io Stavo bene Tu No Stavo bene Se non c'ero Se non c'ero Non è vero Ti tengo attivo Ricordatelo Ricordatelo È un bugiardo Eh Bugiardo Rigilettore Eh Lì un po Chi è Che è lui Bugiardo Oh Che è un solato Chi è Bugiardo Una bella dieta È fatto Che dire Mi rompisco io Così Non ho pranzato Ma Che fai Non ho pranzato Che sarebbe questo Mezza torta di Pasqua Come mai È quaresima E hai mangiato la carne Eh davvero Questi sono i segni Del demonio Smettela Questi sono i segnali Che ti manda Smettela Questa parola Smettela Che ti fa una piattata Allora Non ho manco nominato La persona Non è avanti Non è indietro Con quello Ma tu hai fatto Una cosa Che Dammi da bevi Ho fatto la mia Secondo me È un po' demoniaca Oltre gli 80 anni Poi fai quello Che ti fai Ah A posto È bello A posto Allora Il Vangelo Sul Vangelo C'è scritto Sulla cosa I anziani Non fanno Le cose Non fanno Non fanno Non fanno Non fanno Non fanno Secondo me È per il demonio Secondo me Smettela Smettela Se tu mi vuoi fai mangiare Tu fai un cazzo Allora Vai via Cacca di coglione Oh Vai 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 Dove Ti ho mangiato Ti ho mangiato la carne Occhio perché ti chiappa Mau Vai via Posso venire a dove Come no No Sei femmina Se tu eri femmina Ci poteva anche venire Ma non sei femmina E che so E che sapere tu come sei Io Io Ci vuoi con le femmina No Non ti fa il pennello Non ti dico io Manco il pennello Sì Questo lo dà il culo No Mannaggia E non mi fa Veste mia Lefte di coglione Mannaggia C'è lei C'è lei Giù Comprami Lefte di coglione Ma ne vosa No Le minacce no Ah Non scappo E qua E allora Allora sì Ma mi compri Lo vino di pasta Sì Sì E più agli angeli Dai frate C'è lei Gli uovi Gli uovi Tra le gambe C'è lei Bacia la poccina E lefte di coglione È vero cao Spero che non l'hai letto in inglese Perché sarebbe mucca Cioè Sarebbe brutto Guarda come rire Guarda Guarda Gli viene da rire Guarda Guarda Gli viene da rire Gli viene da rire Sì Gli viene da rire Ma lefte di coglione Guarda come rire Perché fondamentalmente Perché fondamentalmente Io do questo effetto Che sembra che lui Si arrabbia Ma in realtà Ride Uno che fa ride Le persone Quindi Eh certo No Tu mi fai piangere Guarda Guarda Guardami sulla faccia Non ride Non ride Prova Non ride No No Tu Tu Mi fai piangere Non ride Prova Guardami Non ride Vai Sì Sì Ma te che cazzo Sei fatto Ma que Che Schema E C